barchi il fedro tratto da l'uomo che ride di victor hugo è utile conoscere ciò che fanno le persone e sorvegliarle un po è una misura ragionevole josiane faceva spiare lord david da un suo uomo di fiducia di nome barchi il fedro la regina anna da parte sua si faceva tenere al corrente sui fatti e sulle azioni della duchessa josiane la sorella bastarda e sul lord david suo futuro cognato per via di un matrimonio sconveniente da un uomo su cui poteva contare pienamente che si chiamava barchi il fedro e così questo barchi il fedro aveva sotto mano una bella tastiera josiane lord david e la regina un uomo tra due donne che possibilità di modulazioni che amalgama d'anime a barchi il fedro non era mai capitata un'occasione così propizia di parlare a bassa voce a tre orecchie era un vecchio domestico del duca di york aveva tentato la carriera ecclesiastica ma aveva fallito il duca di york principe inglese e romano un insieme di papismo reale di anglicanesimo legale aveva il suo seguito cattolico e quello protestante e avrebbe potuto avviare barchi il fedro nell'una o nell'altra gerarchia ma non lo giudicò abbastanza cattolico per farlo elemosiniere né abbastanza protestante per farlo cappellano è così che barchi il fedro tra due religioni si trovò con l'anima per terra non è poi una brutta posizione per certe anime rettili certe strade non si possono fare che strisciando per molto tempo tutta l'esistenza di barchi il fedro consistette in un'oscura ma proficua domesticità la domesticità è qualcosa ma in più egli voleva il potere e stava quasi per arrivarci quando giacomo secondo cadde doveva ricominciare da capo niente da fare sotto l'imbrunciato goglielmo terzo che metteva nel suo modo di regnare un puritanesimo che scambiava per onestà e comunque barchi il fedro quando fu detronizzato giacomo il suo protettore non andò subito in miseria qualcosa di indefinibile sopravvive ai principi decaduti alimentando e sostenendo ancora per qualche tempo i loro parassiti il resto della ninfa che sta svanendo fa vivere per due o tre giorni le foglie in cima ai rami dell'albero sradicato e poi improvvisamente la foglia ingiallisce e secca e così pure il cortigiano grazie a quell'imbalsamazione che si chiama legittimità il principe benché caduto e allontanato sopravvive e si conserva non capita lo stesso al cortigiano che muore ben più del re il re laggiù è una mummia il cortigiano qui è un fantasma essere l'ombra dell'ombra è l'estrema delle magrezze e dunque barchi il fedro divenne famelico e allora imparò l'arte dei letterati ma lo cacciavano anche dalle cucine qualche volta non sapeva dove dormire chi mi darà un tetto diceva e lottava possedeva tutte le doti che la pazienza rivela nei momenti del bisogno e in più egli aveva il talento della termite sapeva fare un buco dal basso verso l'alto e aiutandosi con il nome di giacomo secondo con i ricordi con la fedeltà con l'intenerimento eccetera si aprì un varco fino alla duchessa iosien e iosien prese a benvolere quell'uomo che era povero e intelligente due cose che commuovono lo presentò a lordi rimor gli diede alloggio nelle sue dipendenze lo tenne come uno di casa e fu buona con lui e qualche volta perfino gli parlò barchi il fedro non ebbe più fame né freddo e osien gli dava del tu era di moda tra le grande ame dare del tu ai letterati che lasciavano fare la marchesa di meili riceveva stando a letto roi che non aveva mai visto e diceva sei tu che hai fatto l'annata galante buongiorno più tardi i letterati restituirono il tu venne il giorno in cui fabre de glantin disse la duchessa di rohan non sei la chabot per barchi il fedro sentirsi dare del tu era un successo ne fu rapito quella familiarità dall'alto in basso rientrava nelle sue ambizioni led di osien mi da del tu diceva a se stesso fregandosi le mani approfittò di questo tu per guadagnare terreno divenne assiduo delle stanze private di osien discreto invisibile la duchessa si sarebbe quasi spogliata davanti a lui ma si trattava di una situazione precaria barchi il fedro mirava a sistemarsi con una duchessa si è a metà strada una galleria sotterranea che non arrivasse fino alla regina sarebbe stato un lavoro inutile un giorno barchi il fedro disse a iosien vostra grazia vorrebbe fare di me un uomo fortunato cosa vuoi domandò iosien un impiego un impiego tu ma sì signora cosa ti viene in mente di chiedere un impiego tu non sai fare niente proprio per questo iosien si mise a ridere tra le cose che non sai fare quale preferiresti stappare le bottiglie che vengono dall'oceano e iosien rise ancora più forte ma cosa dici ma tu mi prendi in giro o no signora mi voglio divertire prendendoti sul serio disse la duchessa cosa vuoi essere ripeti stappare le bottiglie che vengono dall'oceano o tutto è possibile a corte esiste un impiego simile o sì signora insegnami queste novità continua questo impiego esiste giuramelo sull'anima che non hai lo giuro non ti credo grazie signora vorresti dunque ricomincia di sigillare le bottiglie del mare o come lavoro non deve essere molto faticoso è come pettinare un cavallo di bronzo quasi non fare nulla in effetti questo è il posto che ti ci vuole è quello che sai fare vedete che di qualcosa son capace ah questo poi vuoi fare il buffone ma esiste questo posto marchifedro assunse un atteggiamento di severa deferenza signora voi avete un padre augusto giacomo secondo il re e un cognato illustre giorgio di danimarca duca di cumberland vostro padre è stato lord ammiraglio d'inghilterra vostro cognato lo è tutt'ora beh sono queste le tue novità le conosco quanto te ma ecco ciò che vostra grazia non sa ci sono tre tipi di cose in mare quelle che stanno in fondo all'acqua legon quelle che galleggiano sull'acqua flotson e quelle che l'acqua rigetta sulla terra jetson e con ciò e con ciò queste tre cose legon flotson e jetson appartengono al lord grande ammiraglio vai avanti vostra grazia comprende no tutto quello che c'è in mare ciò che va a fondo ciò che galleggia e ciò che si arena appartiene all'ammiraglio d'inghilterra tutto bene e allora eccetto lo storione che appartiene al re avrei detto che tutto ciò appartenesse a nettuno a nettuno è un imbecille ha abbandonato tutto ha permesso che si prendessero tutto gli inglesi concludi le prede di mare è il nome che si dà a queste scoperte bene ed è inesauribile c'è sempre qualcosa che galleggia qualcosa che approda è il tributo del mare il mare paga l'imposta all'inghilterra d'accordo ma concludi vostra grazia comprende che in questo modo l'oceano crea un ufficio e dove presso l'ammiragliato e che ufficio l'ufficio delle prede di mare ebbene ebbene l'ufficio si divide in tre settori legge flots e jetson e ciascun settore ha un suo ufficiale dunque e dunque una nave in alto mare vuol dare una comunicazione qualsiasi a terra che naviga una certa latitudine che ha incontrato un mostro marino che è in vista della costa che si trova in difficoltà che sta affondando che è perduta eccetera il capitano prende una bottiglia vi mette dentro un pezzo di carta dove ha scritto la cosa che intende far sapere sigilla il collo e getta la bottiglia in mare se la bottiglia va a fondo ciò riguarda l'ufficiale legge se galleggia riguarda l'ufficiale flotson se le onde la portano a terra ciò riguarda l'ufficiale jetson e tu vorresti essere l'ufficiale jason esattamente e questo è quello che tu chiami di sigillare le bottiglie che vengono dall'oceano o dal momento che esiste il posto ma perché vuoi proprio quest'ultimo posto e non gli altri due perché in questo momento è un posto vacante e in che cosa consiste il lavoro signora nel 1598 un pescatore di gronghi trovò sulle sabbie della secca del promontorio epidium una bottiglia incatramata che fu portata alla regina elisabetta e la pergamena che si estrasse da quella bottiglia fece sapere all'inghilterra che l'olanda aveva conquistato senza dire niente un paese sconosciuto la nuvaia zemlia nova zemla e che la conquista aveva avuto luogo nel giugno 1596 che in quel paese c'era il pericolo di venir mangiati dagli orsi che il modo migliore per passarvi l'inverno era indicato su un foglio chiuso in un bossolo di moschetto appeso al camino della casa in legno costruita nell'isola e abbandonata dagli olandesi ormai tutti morti e che quel camino era fatto con una botte sfondata incassata nel tetto ho capito poco di questo discorso campato per aria bene elisabetta comprese un paese in più per l'olanda era un paese in meno per l'inghilterra la bottiglia che aveva dato la notizia diventò una faccenda importante e a partire da quel giorno venne dato ordine a chiunque trovasse una bottiglia sigillata sulla riva del mare di consegnarla all'ammiraglio d'inghilterra sotto minaccia della forca per aprire le bottiglie l'ammiraglio incarica un ufficiale che si è il caso in forma sua maestà del contenuto e arrivano spesso queste bottiglie all'ammiragliato di rado ma non importa il posto c'è per questo lavoro ci sono camera e alloggio presso l'ammiragliato e questa trovata per non fare niente quanto la pagano cento guinee all'anno e tu mi disturbi per così poco per vivere mi basta da pezzente come conviene a quelli come me ma cento guinee niente quello che vi permette di vivere solo un minuto a noi basta per un anno è il vantaggio di essere poveri avrai quel posto otto giorni dopo grazie ai buoni favori di iosien e all'autorevolezza di lord david dirry moore bar kilfedro ormai in salvo uscito dalla precarietà finalmente appoggiato su un terreno solido alloggiato spesato con una rendita di cento guinee si era installato presso l'ammiragliato c'è una cosa che urge essere ingrati e bar kilfedro non si fece pregare avendo ricevuto simili favori da parte di iosien era naturale che non pensassi ad altro che a vendicarsene aggiungiamo che iosien era bella alta giovane ricca potente illustre e che bar kilfedro era brutto piccolo vecchio povero protetto e oscuro doveva pur vendicarsi di tutto questo quando si è fatti di tenebre come si può perdonare una tale luminosità bar kilfedro era un irlandese che aveva rinnegato l'irlanda brutta razza bar kilfedro aveva un punto a suo vantaggio una pancia smisurata una pancia così passa per segno di bontà ma quella pancia era un'altra delle ipocrisie di bar kilfedro perché era un uomo molto malvagio che età aveva bar kilfedro nessuna aveva l'età necessaria agli scopi del momento le rughe i capelli grigi ne facevano un vecchio ma quanto a prontezza di mente era giovane era svelto e pesante una sorta di popotamo scimmia certamente un realista ma forse anche un repubblicano magari cattolico senza dubbio protestante a favore degli stewart probabilmente e dei brunswick evidentemente essere a favore non è una forza che a patto di essere al tempo stesso contro e bar kilfedro praticava questa forma di saggezza il lavoro come stappatore di bottiglie che vengono dall'oceano non era così da poco come poteva apparire dalle parole di bar kilfedro i reclami che oggi verrebbero chiamati i proclami di garzie ferrandes nel suo carta del mare contro lo spoglio delle navi in secca detto diritto ai rottami e contro il saccheggio dei relitti da parte delle popolazioni riverasche avevano suscitato scalpore in inghilterra apportando ai naufraghi il vantaggio che i loro beni effetti e proprietà invece di essere rubati dai contadini venivano confiscati dal lord ammiraglio tutti i rottami che il mare gettava sulla costa inglese mercanzie carcasse di navi fagotti casse appartenevano al lord ammiraglio ma e qui si mostrava l'importanza del posto sollecitato da bar kilfedro i recipienti galleggianti che contenevano messaggi informazioni richiamavano in modo particolare l'attenzione dell'ammiragliato i naufragi sono una grave preoccupazione per l'inghilterra poiché navigare per lei significa vivere il naufragio è il suo pensiero fisso il mare è una perpetua fonte di inquietudine per l'inghilterra la bottiglietta di vitro che la nave ormai condannata getta le onde contiene un'estrema informazione preziosa sotto tutti i punti di vista informazione sul bastimento informazione sull'equipaggio sul luogo l'epoca e le circostanze del naufragio informazione sui venti che hanno spezzato il vascello sulle correnti che hanno portato la bottiglietta galleggiante sulla costa l'ufficio occupato da bar kilfedro è stato soppresso da più di un secolo ma aveva un'autentica utilità l'ultimo titolare fu william hussey di doddington nel lincoln l'uomo che reggeva quell'ufficio era una specie di relatore per tutto ciò che riguardava le cose di mare tutti i recipienti chiusi e sigillati bottiglie bottigliette giare che le onde gettavano sul litorale inglese gli venivano consegnati solo lui aveva il diritto di aprirli era il primo che ne conosceva i segreti e li classificava e li etichettava nel suo archivio l'espressione mettere una cesta in archivio ancora usata nelle isole della manica viene da lì a dire il vero era stata presa una precauzione nessun recipiente poteva essere dissigillato e stappato se non alla presenza di due giurati dell'ammiragliato tenuti per giuramento al segreto che firmavano con il titolare dell'ufficio jetson il processo verbale dell'avvenuta apertura ma poiché questi giurati erano tenuti al silenzio ne risultava per barchi il fedro una certa discrezionalità e dipendeva da lui almeno fino a un certo punto la decisione di sopprimere un fatto o di metterlo a risalto i fragili relitti erano ben lontani dall'essere rari e insignificanti come barchi il fedro aveva detto agli osien a volte raggiungevano la terra molto rapidamente a volte dopo anni ciò dipendeva dai venti e dalle correnti questa usanza di affidare le bottiglie alla corrente è un po sorpassata come quella degli ex voto ma in quei tempi così religiosi chi stava per morire si avvaleva volentieri di questo mezzo per inviare a dio e agli uomini il suo ultimo pensiero così capitava che l'ammiraglio abbondasse di quei messaggi di mare una pergamena conservata nel castello d'odlien secondo l'antica ortografia e annotata dal conte di suffolk gran tesoriere d'inghilterra sotto giacomo primo rivela che nel solo 1615 furono portate registrate nell'archivio del lord ammiraglio ben 52 tra fiasche ampolle e bottigliette contenenti notizie di bastimenti sul punto di affondare gli impieghi di corte sono come le gocce d'olio si allargano sempre più in questo modo il portiere è diventato cancelliere il palafreniere è diventato conestabile il particolare ufficiale incaricato della funzione desiderata e ottenuta da barchi il fedro era abitualmente un uomo di fiducia era stata elisabetta a volerlo così chi a corte dice fiducia dice intrigo e chi dice intrigo dice carriera quel funzionario aveva finito per essere un po una personalità era un dignitario e prendeva posto subito dopo i due grooms dell'elemosineria poteva entrare a palazzo ma diciamolo solo attraverso quella che si chiama entrata di servizio humilis introitus e fino alla camera da letto perché la prassi voleva che gli informasse direttamente il re quando ne valeva la pena delle sue scoperte che spesso erano molto curiose testamenti di persone disperate addi rivolti alla patria rivelazioni di frodi e di crimini di mare lasciti alla corona che mantenesse l'archivio in comunicazione con la corte e che ogni tanto rendesse conto a sua maestà di quel dissigillamento di bottiglie sinistre era il nero gabinetto dell'oceano elisabetta che parlava volentieri in latino era solita domandare a tenfield di coley nel berkshire chi era l'ufficiale jetson di quel tempo quando questi le portava qualcuna delle scartoffie venute dal mare quid mi scribit neptunus cosa mi scrive nettuno il varco era aperto la termite era riuscita nel suo intento barchil fedro avvicinava la regina era quello che voleva per il proprio vantaggio no a svantaggio degli altri un piacere più grande nuocere significa godere e non è da tutti avere in sé il desiderio di nuocere un desiderio vago ma implacabile e non perderlo mai di vista barchil fedro aveva questa fissazione i suoi pensieri erano come la presa del mastino sentirsi inesorabile gli dava un senso di cupa soddisfazione gli bastava avere una preda sotto i denti o nell'anima la certezza di fare il male era contento di battere i denti se poteva sperare che anche gli altri avessero freddo la cattiveria è una forma di opulenza quell'uomo che crediamo povero e che in effetti lo è possiede un tesoro in malignità e gli va bene così basta essere contenti giocare un brutto scherzo che poi è la stessa cosa che giocarne uno bello vale più del denaro il brutto è per chi lo subisce ma per chi lo fa è bello che sbae compagno di guy folks nel complotto papista delle polveri diceva neppure per un milione di sterline vorrei perdermi la scena del parlamento che va gambe all'aria ma chi era dunque barchil fedro ciò che vi è di più piccolo e di più terribile un invidioso l'invidia un posto fisso a corte a corte abbondano gli impertinenti gli scioperati i ricchi fannulloni affamati di pettegolezzi quelli che cercano lago nel pagliaio i dispettosi i beffeggiatori beffeggiati i poveri di spirito tutta gente che ha bisogno della conversazione con un invidioso che refrigerio sentir parlare male degli altri con l'invidia si fa un'ottima spia c'è una profonda analogia tra l'invidia che è un'inclinazione naturale e lo spionaggio che è una funzione sociale la spia va a caccia per conto degli altri come il cane l'invidioso va a caccia per proprio conto come il gatto un mio feroce questo è l'invidioso altre qualità barchifedro era discreto segreto concreto teneva tutto per sé e si tormentava nel suo odio un'enorme bassezza implica un'enorme vanità piaceva a quelli che riusciva a divertire ma era odiato dagli altri sentiva lo sdegno di quelli che lo odiavano e il disprezzo di quelli a cui piaceva si dominava tutte quelle offese ribollivano senza far rumore nella sua ostile rassegnazione era indignato come se i furfanti ne avessero diritto covava in silenzio le sue furie il suo talento consistiva nell'ingoiare tutto provava sordi corrucci interiori frenetiche rabbie sotterranee nere fiamme soffocate di cui non ci si accorgeva era un collerico fumivoro la superficie era sorridente era cortese premuroso accomodante amabile compiacente salutava chiunque e dovunque per un soffio di vento si inchinava fino a terra che fortuna avere un giunco nella colonna vertebrale questi esseri nascosti e velenosi non sono poi così rari come si pensa viviamo circondati da questi fruscii sinistri perché i malvagi domanda drammatica il sognatore se la pone continuamente e il pensatore non la risolve mai perciò lo sguardo dei filosofi è triste e sempre fisso sulla tenebrosa montagna del destino dall'alto della quale il gigantesco spettro del male lascia cadere manciate di serpenti sulla terra barchilfedro era obeso di corpo ma aveva il volto magro il torso grasso e la faccia ossuta aveva le unghie striate e corte le dita nodose i pollici piatti i capelli grossi le tempie molto distanti una dall'altra e una fronte da assassino larga e bassa gli occhi alla cinese nascondevano la pochezza dello sguardo sotto il cespuglio delle sopracciglia il naso lungo appuntito gobbo e molle toccava quasi la bocca barchilfedro opportunamente vestito da imperatore sarebbe assomigliato un po a domiziano la sua faccia ad un giallo rancido era come modellata in una pasta vischiosa le guance immobili sembravano di mastice aveva ogni specie di rughe brutte e ribelli l'angolo della mascella massiccio il mento pesante l'orecchio plebeo quando era rilassato il labbro superiore visto di profilo era rialzato ad angolo acuto e lasciava scorgere due denti sembrava che quei denti vi guardassero i denti possono guardare e gli occhi mordere pazienza temperanza continenza riservatezza ritegno amenità deferenza dolcezza cortesia sobrietà castità completavano e perfezionavano barchilfedro egli calugnava quelle virtù per il solo fatto di averle in poco tempo barchilfedro prese piede a corte